Lei è diventato una star del web, uno youtuber. Come nasce questo fenomeno? Questa passione nasce così, spontanea, perché io ho sempre amato mio padre che è al quinto di pianoporte e cominciava lui a strimpellare la mia madre che ha l'armonica bocca e io così e mi ha impresi anche io la mia madre che imparai così. Da quando avevo 16 anni ho cominciato già a comprare i primi brani, a partecipare a delle trasmissioni, con i miei amici a strimpellare la mia madre che suonavamo giù al box di casa mia. Nonostante avessi fatto parecchi lavori, parecchi mestieri, non ho mai abbandonato mia madre. Non so magari che l'armo del male che domina, chi amerà perché non ridimo e chi amerà chi amerà Un giovine Grazie a tutti.